buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati con il nostro incontro con gli webinar quello di oggi è un webinar molto interessante perché sarà un incontro veramente vivo ricco di esperienze e quindi insomma siamo veramente orgogliosi di questo incontro di oggi sono con noi tantissimi esperti al riguardo che vi vado a presentare a uno a uno molto brevemente perché così non non vi faccio perdere troppo tempo ma sono con il dottor nicolà modugno dell'irx neuromed di portili di sernia il dottore erico grassi del soc neurologia l'ospedale di prato asve toscana centro e sono con noi anche il signor roberto casarotto che è istruttore di dance well il signor massimiliano iachini potrà essere un dancer è il vicepresidente di igp e per finire il signor valentino grassi che è un artista io ovviamente vi lascio so che voi già sapete bene o male la funzionalità del del webinar comunque se volete messaggiare con i nostri esperti dovete farlo inserendo appunto il testo della vostra domanda il vostro intervento nella sezione chat a questo punto io lascio la parola al dittor nicola modugno che ci entra nel vivo della situazione e ci vediamo dopo buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti grazie a donatella e grazie sempre alla segreteria della fondazione e alla fondazione limpe che ci permette queste bellissime attività e vorrei ringraziare anche gli ideatori di questo webinar che sono stati il dottor cossu la professoressa morgante dottoressa sensi che hanno ideato questo titolo e hanno dato a noi la possibilità di poter portare avanti questa tematica che ci piace molto la tematica è la seguente potremmo dire che il titolo riassume tutto ma manca il punto interrogativo perché la domanda appunto dovrebbe essere è giusto cercare la bellezza nel parkinson come un ancora di salvataggio in questi momenti difficili e cercheremo di rispondere a questa domanda e credo che cercheremo di dimostrarvi che portare la bellezza e ricercare la bellezza può essere sicuramente foriero di buone cose e quindi può essere sicuramente positivo nella gestione del parkinson e i nostri esperti ci aiuteranno in questo senso ricordo a tutti di scrivere le vostre domande se volete essere menzionati accanto alla domanda scrivete il nome e anche se appare ma non sappiamo appunto se volete essere nominati o meno per cui come vi disse la dottoressa morgante accanto alla domanda scrivete il vostro nome così io che leggerò le domande capirò che volete essere nominati e lascio la parola al dottor grassi che vi parlerà ve lo svelerà lui dalla neuroestetica a puntini puntini prego enrico buongiorno ciao ciao a tutti buonasera anch'io devo ringraziare assolutamente tutta la limpe nicola e in particolar modo i miei cari amici gianni cosso e chiara sensi allora prima di raccontare il ruolo della bellezza nel parkinson bisogna però definire cosa sia questa bellezza se è possibile voi sapete oggi viviamo in un in un'era in cui la bellezza è diventata una scienza perché abbiamo trovato dei criteri oggettivi e delle architetture neurali che fanno da base alla possibilità di percepire e di godere di questa bellezza e mi scuso se trovate molte diapositive in inglese ma il testo non ha nessun significato potrebbero essere scritte anche in aramaico voi dovete guardare le immagini ascoltare la favola e vi racconto una favola che dice che la bellezza è un elemento fondante della nostra esistenza e alla fine cercherò di convincervi che questa favola dice pure il vero e di però diceva che quasi tutti gli uomini sono d'accordo sull'esistenza del bello ma se chiediamo a qualcuno e definirlo allora li vanno in crisi io mi riferisco sempre a una definizione di stendhal che trovo la più moderna da un punto di vista neuroscientifico stendhal diceva e la bellezza è la promessa di una felicità in questa definizione richiama immediatamente l'attenzione sul ruolo di ricompensa cioè di esperienza di piacere un piacere contemporaneamente dei sensi e dell'intelletto e in questo questo circuito neuronale che si chiama appunto circuito della ricompensa c'è tutta la nostra storia la nostra storia di medici la nostra storia di pazienti la nostra storia di uomini sono capaci di provare piacere da molte cose diverse come vedete è molto semplice qua alla base del dentro il cervello nelle profondità del cervello c'è un'area si chiama aria segmentale ventrale che rappresenta la polla di dopamina la sorgente inesausta di questo neurotrasmettitore che da una parte va a innervare tutte le parti motori la sostanza nera ed è questa la parte più colpita nel parkinson ma dall'altra parte c'è un circuito mesolimbico che è quello fondamentale per il circuito del piacere che come vedete è un circuito antichissimo un circuito molto flessibile io provo piacere e attivo questo sistema dopaminergico che ha come relè l'area segmentale ventrale il nucleo accumbens e la corteccia orbito frontale sono questi tre i relè alle quali mi riferirò spesso e come vedete esperienze diversissime come una risposta a una droga una vincita di denaro ascoltare beethoven o guardare raffaello michelangelo vedere un bell'uomo una bella donna mi attivano questo circuito della ricompensa e è un circuito filogeneticamente antichissimo conservatissimo questo è un vermettino di un millimetro di lunghezza e che ha solo 302 neuroni se io silenzio con tecniche di biologia molecolare otto neuroni dopo aminergici del circuito del reward questo vermettino smette di seguire le tracce odorose dei batteri di cui si nutre e per cui anche se ancora è in grado di percepire gli odori non traendone più piacere si lascia morire di fame questo fa capire il ruolo fondante dell'esperienza di piacere della nostra vita e questo mi fa capire la flessibilità del nostro sistema di piacere noi siamo in grado di percepire e di apprezzare e di godere del pennello di leonardo della penna di mozart o delle cose di nijinsky o anche della divina commedia di dante come è possibile che noi siamo capaci di trarre fuori il concetto di bellezza da così forme diverse che arrivano al nostro cervello da porte sensoriali e percettive diverse bene su questo a queste a questa domanda è un gruppo di scienziati che ha fatto capo fondamentalmente a semir zeki che lavora un po a londra un po a new york ed è uno dei padri la neuroestetica hanno risposto con questo esperimento hanno a un gruppo di soggetti naiva hanno proposto immagini decisamente belle come la grande odalisca de angra o immagini sempre opere d'arti ma in cui si mostrano oggetti e forme assai più sgradevoli e poi sono andate attraverso la risonanza magnetica funzionale a vedere quello che succedeva e succedeva questo che nelle forme belle si aveva un'attivazione di quella che era il circuito del reward soprattutto la corteccia orbiton frontale in nuclei accumbens mentre guardate quello che succede nel vedere delle forme brutte si aveva un'attivazione della migdala e delle cortecce motorie cioè si aveva un'attivazione decente che permettono una fuga un allontanamento da queste figure così sgradevoli e i risultato finale era questo che sia per esperienze visive come quello che ho fatto vedere come e con esperienze musicali si aveva l'attivazione del circuito reward e si aveva un overlap cioè in tutte e due le esperienze di bello si aveva l'attivazione di una corteccia orbiton frontale per cui la forza con cui si attiva questa corteccia orbiton frontale era proporzionata al nostro grado di gradevolezza alla nostra esperienza di bellezza quindi possiamo dire che questa corteccia orbiton frontale è una corteccia che è alla base di un'esperienza della bellezza in tutte le modalità con questa bellezza si propone e questo spiega perché i criteri estetici siano conservati nel corso dei secoli la regina ne pertiti questo busto meraviglioso a berlino di 3.300 anni fa ai criteri di bellezza e tuttora oggi sono incontroversibili a zigomi alti a labbra carnose a occhi allungati quindi possiamo dire che giudizio estetico è un complesso di componenti genetiche culturali e soprattutto oggettive che si sono sviluppate nel corso di migliaia di anni e in questo studio del gruppo di parma si documenta come ci siano dei criteri oggettivi di bellezza sempre attraverso la risonanza magnetica funzionale sono stati proposti a diversi soggetti immagini diverse del doriforo di policleto che come sapete è una statua famosa per la sezione aura nel nel mezzo c'è la figura originale ed è stata modificata allungando il busto o le gambe e si vedeva che il circuito reward non si attivava se venivano mostrate le immagini modificate un'altra manifestazione di bellezza è sicuramente il mondo in cui viviamo il concetto di biofilia è stato proposto da questo che forse è il più grande biologo vivente si chiama eduardo wilson è famosissimo per gli studi sulle formiche e sulla cooperazione tra animali e ha dato grandissimi spunti anche per tutte le scienze cognitive con il discorso dell'empatia della collaborazione tra individui e lui per primo ha posto lì all'attenzione sulla nostra propensione ad amare ea godere della natura ma cose che il gli artisti conoscevano da tempo valdo emerson diceva che ogni uomo è così profondamente poeta da essere suscettibile degli incanti della natura ma questi incanti della natura hanno ricadute molto evidenti infatti la nostra valutazione è estetica del mondo ci permette di migliorare il nostro umore il nostro benessere influenza la nostra produttività nei posti di lavoro e anche addirittura ai tempi di decenza in ospedale in ospedale questo lavoro storico del 84 uscito su science faceva vedere che su pazienti con la stessa malattia in un reparto chirurgico operati di colecistectomia i pazienti avevano il letto che vedeva una finestra con un bel giardino avevano tempi di decenza più più bassi avevano uso di antidoloritici minore rispetto ai pazienti che avevano il muso rivolto verso uno spoglio muro di ospedale quindi la bellezza è qualcosa di oggettivo è qualcosa che tutti siamo in grado di di cui siamo in grado di godere ma una domanda secondo me è fondamentale che si è che si è posto questo premio nobel della fisica è perché i fiori sono belli allora il biologo evoluzionista ha una risposta molto chiara il fiore è bello perché i geni responsabili della forma si sono evoluti per renderlo bello agli insetti che contemporaneamente si sono coevoluti per trovare bello il fiore perché così è possibile impollinare tanti altri tanti altri prati ma quello che stupisce perché i fiori siano belli per noi questo tutto questo lascia presupporre che la bellezza non sia un effetto collaterale fortuito ma che l'evoluzione abbia bisogno di generare bellezza oggettiva perché la vita si propaghi e la bellezza guardate che in tante cose a cui non pensiamo vi ricordo che per i greci la bellezza aveva era molto più vicina al mondo della verità e al mondo della precisione rispetto al mondo estetico come per noi e platone aristotele ritenevano nella bellezza avesse a che fare con il buono e con il vero e la fisica del novecento ha riproposto in maniera clamorosa questo concetto e paul dirac è stato forse uno dei più grandi fisici insieme ai 3 il novecento è arrivato a dire e l'ha scritto in un libro che consiglia tutti siamo la bellezza come metodo che nel criterio estetico non è un non è solo un mezzo per trovare delle spiegazioni scientifiche ma è parte integrante di ciò che intendiamo per spiegazione quindi alla fine in maniera paradossale lui ha detto che è più importante che le equazioni siano belle piuttosto che in accordo con gli esperimenti e sempre il gruppo in collaborazione con i field con la medaglia field che è il corrispettivo del premio nobel in matematica a chi ha dimostrato e di nuovo nel esiste una bellezza matematica e purtroppo noi non possiamo apprezzare perché non siamo matematici ma che nei matematici attiva la corteccia orbito frontale di nuovo che è il grande regista della esperienza edonia suscitata dalla bellezza e che dire della musica se se vi interessa vi racconto alcune cose sul rapporto tra musica bellezza e dopamina e noi la saga della primavera di stravinsky quando venne proposta nel 1913 a parigi causò un maremoto ci fu una scene selvagge di lotta all'interno del teatro perché era assolutamente improponibile proporre una musica del genere ma solo 20 30 anni dopo la sagra della primavera finì in un film bambini per bambini che è la che è fantasia quindi come impariamo a ascoltare la musica bene la impariamo attraverso un il sistema del piacere attraverso dopamina in questo lavoro bellissimo di merzenich del gruppo di merzenich nel 2001 si dimostra che cosa si dimostra che nella corteccia che vi faccio vedere questa è la corteccia la corteccia uditiva temporale noi abbiamo neuroni selettivi per i suoni alcune determinata frequenza se io nel ratto selezionavo la frequenza 9 hertz e contemporaneamente stimolavo l'area segmentale ventrale con la produzione di dopamina e avevo un rimodellamento plastico della corteccia con un aumento del dei suoni a 9 hertz quindi attraverso l'esperienza del reward del circuito reward dopaminergica io imparo ad ascoltare la musica e se se mi permettete vi vorrei far sentire un piccolo audio perché il piacere viene dalla musica che è un piacere come vi ripeto mediato dal sistema dopaminergico si divide noi apprezziamo la musica perché in un qualche modo cerchiamo di anticipare il suo percorso e questo è un piacere appetitivo esclusivamente dopaminergico guidato dai gangli della base successivamente nel climax musicale ho un piacere anche consumatorio e in questo caso un attivazione dello striato ventrale ma la musica è fatta di un susseguirsi di note che il nostro cervello lega perché vi ricordo che una sinfonia sono note assolutamente legate in un filo melodico dal nostro sistema nervoso centrale è una costruzione del nostro sistema nervoso centrale e si aspetta qualcosa sempre dalla nota dopo quindi il musicista deve essere bravo a non seguire una pedissima sequenza di attese note perché sennò diventa barboso ma nemmeno deve rivoluzionare quello che il nostro cervello aspetta perché se no non non proviamo più piacere ed è quello che è successo per tanto tempo la musica dodecafonica un esempio rapido veloce lo da stravinsky che nel 1944 ebbe problemi con la polizia americana perché mise un eccentrico accordo di settimo maggiore dissonante nel nell'inno nazionale americano e voi sapete che l'inno nazionale americano non può essere modificato in maniera così trasgressiva vi faccio sentire quello che parlare non può essere modificato in maniera così trasgressiva vi facciamo un appunto non come Grazie. 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 famose ci dicono come la malattia di parkinson progredisce negli anni e quali sono le strutture coinvolte come vedete mentre precocemente viene coinvolta l'area dopaminergica nigrostriaterale cioè che dalla sorgente dopamina avevo fatto vedere prima l'area segmentale ventrale la prima essere colpita nel parkinson è questa e questa comporta tutti i deficit motori e parkinsoniano conoscono bene ma le altre due per lungo tempo sono preservate e la mesolimbica è quella ci interessa a noi quella del del piacere donio della creatività viene per lunghissimo tempo a essere conservata non solo viene essere conservata ma siccome è conservata a lungo tempo io con la terapia la sovrastimolo e quindi avrò un aumento di tutta la funzionalità della mesolimbica che si affianca alla riduzione della parte nigrostriatale motoria come ben sappiamo attenzione anche la mesocorticale viene a un certo punto a essere inibita ma questo ai fini della creazione artistica è un bene perché la mesocorticale riduce tutta la la stimolazione delle cortecce prefrontali particolarmente dedite alla regolazione delle spie emotive per cui c'è come una liberazione del dello spirito creativo del principio edonio liberato dalla via mesolimbica che in qualche modo facilita la produzione artistica quindi c'è un'interazione tra processo patologico in un certo qual modo si liberano aree e che che prima erano inibite da altre e questo sommato alla stimolazione dopaminaggia porta all'esplosione come talvolta succede di talenti artistici questo è un bellissimo dettaglio di un'opera di valentino e come vedete sia comuni altri pittori parkinsoniani una riduzione delle linee fluenti verticali un aumento del cross etching che sarebbe il tratteggio incrociato e che risale in epoca rinascimentale leonardo lo faceva cioè un tratteggio incrociato che il parkinsoniano usa di più proprio per sfruttare il tremore è il tremore permette un cross etching quasi migliorato e quindi contemporaneamente il tutto porta a uno stile più libero meno realistico più impressionistico più astratto dall'altra parte sappiamo anche la malattia di parkinson porta anche a una discriminazione nella percezione dei colori gli studi non sono definitivi ma soprattutto sull'asse blu verde sembra esserci dei problemi di percezione questo porta anche a un'intensificazione della saturazione dei colori e all'intensità dell'uso cromatico del blu come vediamo anche in quest'altra opera di valentino in questa meta analisi si guardano le caratteristiche degli artisti parkinsoniani e non e come vedete la grande differenza è nella emozionalità dell'opera d'arte per l'artista che è aumentata nel paziente parkinsoniano e non ci stupisce in base a quello che vi ho raccontato finora questa è l'uso del colore che ne fa valentino come vedete è un uso ricchissimo quasi materico quasi non quasi scultorio del colore e vi ricordo solamente un ultimo elemento importante la visione è un processo di micro coscienze asincrone il colore è percepito 80 100 millisecondi prima del movimento che in termini orali una differenza enorme il colore percepito ancora prima dell'orientamento della linea così come l'espressione dei volti sono percepiti della loro identità quindi la percezione visiva è una sincronia percettiva e il colore è un elemento fondamentale che nel parkinsoniano viene straordinariamente nell'artista parkinsoniano viene straordinariamente preservato e con questa ultima immagine di un lavoro di valentino che testimonia la ricchezza cromatica della sua produzione artistica io vi ringrazio e vi saluto guarda grazie Enrico e complimenti perché veramente ci hai fatto vedere del pronto mi è scomparso tutto a me non vi preoccupate erito eccomi qua dicevo grazie veramente perché ci ha fatto vedere delle cose stupende e hai dato a tutti delle delle pillole di novità veramente belle è spiegato tanti meccanismi che a mio avviso che aprono veramente dei bellissimi orizzonti prima di passare la parola a roberto a cui hai dato dei ganci clamorosi per quello che lui svolge secondo me dovreste fare proprio un binomio secondo me perché riuscireste veramente a perfezionare al massimo quello che già roberto praticamente anticipato de facto e tu invece l'hai spiegato a livello teorico ci sono chiaramente due domande che vanno tante domande ma due che dicono la stessa cosa che vanno sicuramente risposte immediatamente che sono le seguenti e aspetta che le trovo fondamentalmente ci chiedono ma quindi provare piacere inseguire la bellezza può portare al rilascio di dopamina quindi la prima domanda che viene in mente a un parkinsoniano è se questo rilascio di dopamina possa essere utile alla gestione del parkinson e secondo se sarebbe diciamo se possiamo considerare qualsiasi forma di piacere come curativa allora diciamo che è assolutamente un sistema dopaminergio il sistema dei reward e come ho fatto vedere nelle diapositive finali per molti decenni il paziente già ammalato di malattia di parkinson a questa via mesolimbica conservata anzi per i motivi che ho detto prima di danni di altre strutture come dire di controllo e con la stimolazione dopaminergica esterna dal farmaco questa via viene aumentata per cui il parkinsoniano assolutamente dovrebbe far tesoro di questa via che per tanto tempo viene preservata nel corso della malattia e per cui assolutamente il ruolo della bellezza e del piacere in questo caso artistico ma non necessariamente viene a essere fondamentale per il paziente si è detto per tanto tempo il paziente parkinsoniano è un paziente anidonico beh non è del tutto vero perché come vi ho fatto vedere lui alle armi per controbilanciare questo appiattimento emotivo perché la via mesolimbica per tanti decenni viene a essere conservata quindi la bellezza per il parkinsoniano come per noi ha un ruolo fondante nelle nostre esperienze di vita possiamo dire che questa via mesolimbica deve essere un po stimolata un po allenata e diciamo questo concetto appunto della nedonia che poi si lega anche all'apatia potrebbe non tanto con i farmaci ma quanto col training con le esperienze della vita un po essere ripresa assolutamente lo stile di vita diventa fondamentale l'interesse il mantenersi attivo intellettivamente ma anche mantenersi attivo mi verrebbe a dire edonicamente cioè non perdere il piacere che le esperienze di tutti i giorni veicolano e la bellezza è il gancio può essere il traino per queste esperienze perfetto e rimani in linea perché ci sono un sacco di altre domande che poi faremo alla fine però queste erano sicuramente le due più urgenti e direi a questo punto che si lega conseguenzialmente a te senza neanche essersi preparato tutto ciò che roberto ha fatto e incarna a te la parola roberto buon pomeriggio grazie dottor modugno e grazie a limpe per questo bellissimo appuntamento grazie dottor grassi per l'introduzione che mi ha riempito di nuovo vocabolario e di idee mi ha particolarmente colpito la parola creatività e di come in questi giorni in cui siamo fisicamente lontani l'uno dall'altro ma socialmente connessi la creatività è stato un po' quel fattore su cui abbiamo cercato di costruire di tenere vive le relazioni con tutti quei danzatori noi li chiamiamo danzatori dance well che in diverse città paesi luoghi d'italia fanno parte di una grande comunità e questa comunità come sapete si incontra in si incontrava in altri tempi regolarmente in luoghi belli in musei in gallerie d'arte o in giardini per danzare insieme e in un momento in cui appunto l'uscire di casa non è più rientrato nella quotidiana pratica delle persone con gli insegnanti dance well abbiamo cercato di attivare dei processi creativi nelle case delle persone quindi raggiungendole con delle audio classiche con tutta una serie di stimoli verbali descrittivi con le musiche attivassero appunto dei processi di coinvolgimento fisico emotivo emozionale poetico e anche attraverso dei video la cosa che mi intriga molto è che nella sua introduzione dottor grassi lei ha fatto un grande riferimento all'impatto visivo mi incuriosisce molto il processo che si scatena nel corpo nel cervello nel momento in cui attiviamo il corpo come strumento generatore di bellezza ossia quando incorporiamo un'idea un immaginario un ideale di bellezza ed è quello che in qualche modo cerchiamo di attivare con la danza la danza è l'unica arte che connette le persone più di ogni altra al proprio corpo e a un senso di umanità non ha bisogno di uno strumento di un pennello piuttosto che di uno strumento musicale per generare questa bellezza e il ritrovarsi riscoprirsi generatori di bellezza per se stessi e per altri credo sia qualcosa di particolarmente eccezionale soprattutto nel momento in cui rompiamo quegli schemi quelle tradizionali modalità di etichettare o validare la bellezza che caratterizzano la nostra società occidentale credo che viviamo in un tempo in cui si aggiunta la necessità e probabilmente in questi giorni sia sempre più urgente l'allenare il cambio di prospettiva nel valutare giudicare etichettare quello che chiamiamo bellezza e cercare di costruire delle alternative possibilità di eccellenza e questo avviene nel momento in cui ad esempio con la danza ci spostiamo da quegli stereotipi che arrivano da modelli classici o tradizionali e incominciamo a vedere nella società di oggi dei corpi che in altri tempi non sarebbero mai stati ammessi a danzare non sarebbero mai stati esposti in un contesto di danza ma che oggi diventano dei dei vulcani nel senso che ci permettono di riconoscere noi stessi con tutti i limiti e i pregi in 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 corpi che rappresentano forse più l'umanità e questo avviene quando ad esempio nei nostri luoghi di dance well i danzatori cominciano a danzare quindi un corpo afflitto dal parkinson diventa un corpo in cui si si manifesta si esprime si genera bellezza riusciamo se vogliamo a uscendo dagli stereotipi a guardare a vedere a riconoscere quella bellezza quella poesia quel quell'emozione che ci può dare un'idea di di sforzo un'idea di sfida un'idea di tentativo sia in un contesto di successo che di successo è il fatto di vivere una esperienza insieme che a volte ci permette anche di incorporare questo senso di bellezza e attivare quel quel senso di supporto che appunto tra corpi connessi può generarsi in un momento in un momento di danza penso molto anche a massimiliano e valentino che sono qui con me a come nella nostra cultura molto spesso un corpo maschile un corpo maschile maturo addirittura anziano non venga contemplato negli ideali di bellezza ma assicuro chi non ha avuto modo di partecipare a delle a degli incontri di danza che vedere appunto dei corpi maschili maturi con delle mobilità molto particolari a volte eccezionali perché incontrollabili possono veramente generare ideali di coreografia di bellezza coreografica che dei corpi giovani e magari allenati atletici non potrebbero generare è tutto quello che quei corpi raccontano e portano con se stessi le storie di vita le emozioni le sensazioni che riescono a scaturire che vanno a comporre questa bellezza e il fatto di poterla riconoscere e di avere questa creatività attiva nel cervello chiaramente è un dono che dobbiamo cercare di tenere vivo di allenare e di mettere quasi a servizio di un percorso collettivo dove credo che più che mai sia importante riappropriarci dei corpi riappropriarci del diritto di espressione dico sempre che la danza un diritto dell'umanità ma soprattutto di utilizzare il danzare insieme come quasi un rituale come facevano i nostri antenati per costruire delle comunità per costruire delle società coese inclusive e aperte a al nuovo al diverso e a quello che ci può rendere più umani il dottor modulo certo questo qua sto qua no io spengo tutto per per avere il segnale più pulito possibile e per non disturbare quindi ottimo e che ne pensi enrico vorrei chiedere un commento a te e se non so se conoscevi dance well l'hai conosciuta adesso per la prima volta non so se sai che tra l'altro è stato in quello che è il vostro palazzo a firenze diciamo mi pare che sia stata fatta proprio a palazzo strozzi il dance well una in un paio di occasioni o forse anche più di un paio di occasioni e non so se tu hai avuto modo di conoscere vedere dance well enrico l'ho conosciuta perché me l'ha fatto conoscere valentino ma ma non in maniera non in diretta non direttamente e cosa ne pensi di questo binomio arte e bello o meglio arte danza e bellezza quella dei musei è una strada che assolutamente dobbiamo percorrere perché come ti ripeto si basa su un un meccanismo fisiologico innato cioè la musica attiva attiva il corpo è un dato e noi sappiamo da sempre ma che nel parkinsoniano che viene è stato poco sfruttato e come ho fatto vedere l'esperienza estetica unita all'entrainment cioè al coinvolgimento motori automatico della musica a prova può essere assolutamente un'arma terapeutica per il parkinsoniano e quindi trovo appropriatissima e pertinente questa questa applicazione si potremmo dire che diciamo in questo caso c'è un potenziamento dato dalla sommatoria del diciamo del assolutamente del potere della bellezza che si riceve sia dalla danza e quindi dalla musica e poi anche dalla diciamo dalla bellezza dei luoghi artistici dove ci si ritrova non c'è dubbio la bellezza chiama bellezza perfetto senti roberto una domanda prima di passare anche agli altri nostri ospiti che tu conosci molto bene e tu hai potuto lavorare con persone con parkinson e persone senza parkinson diciamo che prima di conoscere il parkinson hai conosciuto un po tutta l'umanità un po tanti artisti di tutto il mondo poi hai potuto diciamo metterli idealmente a confronto col mondo dei parkinsoniani io ho sempre osservato il potere ulteriore che avete voi artisti che vi mettete al servizio dei pazienti nel capire molte loro problematiche cioè il mio punto di vista è che io avendo lavorato con tanti artisti come tu sai al servizio del parkinson non perché io sia un artista ma ho sempre constatato questo che voi artisti riuscivate a trovare delle chiavi di volta delle chiavi di lettura nella comunicazione con i pazienti parkinsoniani che invece tanti altri operatori sanitari trovavano un po più a fatica probabilmente perché in ospedale c'è meno bello che nella danza che nei musei eccetera eccetera ma secondo te voi potreste avere innanzitutto una chiave di volta di lettura un po diversa da quella diciamo dei sanitari e secondo ti chiederei proprio se tu quali sono le differenze sostanziali a parte quelle macroscopiche determinate dalla malattia che tu hai osservato per esempio nell'apprendimento e nelle performance dei pazienti rispetto ai non pazienti allora innanzitutto non li chiamiamo pazienti li chiamiamo danzatori e credo che questo già sia molto eloquente nel senso per noi sono persone e anche il modo in cui vengono invitate a chiamarsi e ha chiaramente un impatto molto molto importante credo che gli artisti adesso parlo in maniera molto generica dovrebbero utilizzare appunto la loro creatività per trasformare i limiti in opportunità e quindi quello che facciamo all'interno di dance well è appunto costruire in un contesto che sono spesso del musei gallerie ossia luoghi identificati come belli luoghi identificati come artistici che ci permettono di qualificare qualunque cosa avvenga in luoghi come artistica sia quello appunto il nostro scopo è quello di stimolare tutta una serie di processi creativi che possono avvenire in dialogo con le opere che ci sono ma allo stesso tempo e sono sempre più i livelli di lavoro su cui fondiamo le nostre pratiche attiviamo dei processi creativi tra le persone con le persone e con lo spazio nel tempo che ci viene dato per stare insieme quindi è chiaro che quello che si va a creare qualcosa di sotto certi punti di vista molto complesso che ha molti risvolti come dicevo prima su più piani quello che ho notato è che avere offerto un'iniziativa di questo genere a gruppi misti che comprendono sia persone col parkinson che i loro familiari che persone che non vivono col parkinson di generazioni diverse di culture diverse non altro che rinforzato tutti quei processi che cerchiamo di attivare per costruire una società coesa una società disposta a a conoscersi e disposta a mettersi in gioco per per capire l'altro e lavorarci insieme quello che ho notato è che molto spesso in un momento in cui si danza insieme si attivano dei processi misteriosi per cui ho già citato in un altro dialogo col dottor modugno l'esempio di la min un nostro giovane insegnante che arriva dal gambia ed è arrivato a bassano come richiedente asilo che pratica delle danze del suo paese d'origine sono spesso danze tribali sono danze rituali in cui in maniera semplificata introduce dei codici che vengono danzati collettivamente quello che è successo in presenza anche di alcuni medici è che avevamo persone col parkinson persone ultra sessantenni che per più di 20 minuti saltavano senza fermarsi non è stato diagnosticato alcun infarto alcun scompenso cardiaco e i report che abbiamo avuto poi dai parkinsoniani è che per alcuni giorni si svegliavano senza la rigidità che di solito contraddistingue no i risvegli e gli inizi di giornata per cui ci siamo molto chiesti come il fatto di coinvolgersi in in alcune pratiche possa generare una specie di euforia collettiva o di terapia collettiva o di bellezza collettiva non so come chiamarla ma sicuramente è qualcosa che trascende l'esperienza del singolo e probabilmente oso pensare attivi dei dei sistemi di memoria del corpo che vanno oltre la storia delle singole persone mi riferisco a tutta quell'eredità che oltre al dna portiamo con noi dai nostri antenati dalle pratiche dei nostri antenati da delle pratiche ritualistiche molto spesso danzate non dimentichiamo che le civiltà trasmettevano la storia attraverso danze e canti prima di iniziare a scriverla e in alcune parti del mondo è tutt'oggi praticato questo modo di trasmettere la cultura da qualche parte nel nostro sistema vivente probabilmente c'è ancora qualche eco di quella memoria e sono sicuro che si scatena nel momento in cui si trovano le chiavi di accesso per farla rivivere e quello che ho notato inoltre è stato in in occasioni in cui alcuni parkinsoniani anche giovani danzavano davanti a un pubblico scompariva il tremore succedeva qualcosa di magico per cui il corpo reagiva in un altro modo rispetto a come siamo abituarlo a vederlo muoversi e anche questo è qualcosa di affascinante di misterioso ma che sicuramente ha a che fare con tutto quello che è quel coinvolgimento emotivo emozionale sicuramente dopaminico che che la danza che il fatto di danzare davanti a delle persone con altre persone può scatenare e senti roberto un'ultima domanda che ti ho già in parte toccato prima ma siccome ci sono fior fior di lavori scientifici che dicono e documentano quanto l'apprendimento sia deficitario nel parkinson e tutti studi fatti in laboratorio quindi in maniera un po' asettica con diciamo esperimenti che valutavano l'apprendimento sotto delle forme assolutamente diciamo poco poco consone e poco vicine a tutto quello che tu fai ti chiedo nel vedere persone senza diciamo danzatori parkinsoniani e danzatori non parkinsoniani hai osservato delle differenze sostanziali nei meccanismi e nei processi di apprendimento no anzi trovo che l'introduzione del dottor grassi mi spieghi come ci sia molto spesso una particolare vitalità e una propensione alla creatività da parte dei parkinsoniani che probabilmente è maggiore rispetto a chi non ha il parkinson in condizioni di di età e di diciamo stato fisico simile quello che voglio dire è che nel contesto della danza chiaramente nel momento in cui andiamo a imparare o a trasmettere delle sequenze di movimento delle sequenze danzanti o a creare dei processi appunto coreografici si mettono in moto più funzioni dobbiamo gestire lo spazio dobbiamo gestire la relazione tra le persone lo spazio tra le persone il ritmo la musicalità tutta una serie di componenti che definiscono quella che chiamiamo interpretazione allo stesso tempo è una è un'arte molto complessa perché chiaramente mette il corpo al centro di un processo di gestione di tempo spazio e relazioni molto molto complesso se dovessimo pensare in maniera analitica ognuna di queste funzioni probabilmente non riusciremo a muoverci mentre qualcosa accade per cui tutta una serie di memorie di funzioni non so spiegarlo scientificamente come lo saprete sicuramente spiegare voi ma accade qualcosa per cui ci si mette in moto ci si mette in moto e ci si riesce a volte a danzare in unisono si riesce a volte a creare un'armonia anche quando i singoli componenti di un gruppo hanno delle modalità completamente diverse di gestione delle degli stimoli e dei movimenti che magari naturalmente si si manifestano succede qualcosa nel momento in cui si è collettivamente impegnati in quest'arte per cui probabilmente non non ho notato appunto delle difficoltà o particolari o delle particolarità nell'apprendimento quindi non questo questo conferma anche delle nostre osservazioni che abbiamo fatto per esempio in barca a vela vi posso riportare i commenti che sono stati fatti dagli istruttori di vela i quali non solo non hanno notato differenze tra naviganti aspiranti naviganti parkinsoniani e non parkinsoniani ma addirittura ci hanno detto più volte e su più edizioni quanto avessero notato invece una maggiore addirittura capacità di apprendimento in termini di attenzione e di velocità di apprendimento al punto che diciamo decisero di creare un equipaggio fatto solo da parkinsoniani per farli navigare e regatare addirittura questo è uno degli obiettivi che ci siamo posti per cui ti lancio questa sfida questo challenge per il futuro noi abbiamo portato la rappresentazione della barca a vela in teatro con i pazienti che senza barca a vela ma con l'ausilio della musica rappresentavano tutto ciò che accade in una barca a vela in un ipotetico scenario di teatro ti chiederei questo challenge per il futuro un giorno di immaginare dance well su una barca a vela per vedere cosa accade ai diciamo ai nostri ai nostri amici imparando andare in barca a vela con l'ausilio di dance well questo così un challenge per il futuro sul concetto di memoria del movimento cioè allora è un concetto che gioca a favore nostro c'è una memoria ancestrale giustamente il lui dice è un concetto legato molto alla nascita della musica voi sapete è un mistero neurobiologico perché noi siamo animali musicali c'è chi come steven pinker che dice che la musica la musicalità dell'uomo è un brain cheesecake cioè è un cheesecake che l'evoluzione ci ha messo ce la siamo trovati così casualmente e ne traiamo piacere secondo altri invece la musica un ruolo pro sociale cioè serve se non fossimo animali musicali ci sarebbero molto più guerre di quanto ce ne siano state anche se ci sono state in abbondanza altri vivono e la musica sia qualcosa che origine successivamente al linguaggio ma in ogni caso volendoci limitare a quello che sappiamo noi che il primo strumento musicale è un osso di un'ala di un avvoltoio da cui qualcuno ha ricavato un flauto circa 35 mila anni fa quindi 30 mila anni prima la prima manifestazione di scrittura quindi è qualcosa che risale in molto 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 qualcosa di molto più antico di qualunque altra manifestazione umana ed è qualcosa connesso a musica e movimento qualcosa che nasce con l'uomo quindi è uno è un meccanismo non da oliare perché è un meccanismo assolutamente efficace efficientissimo e pronto ad essere riattivato in chi per motivi patologici come i pazienti parkinsoniani abbia delle difficoltà motorie quindi io trovo ci sono delle evidenze fortissime sul fatto che questo questo meccanismo vada sfruttato senti enrico una domanda invece che ti volevo rivolgere da tanto tempo è la seguente ma tu non ritieni che questo diciamo lo spazio della neuroestetica nell'ambito delle neuroscienze sia un po troppo periferico perché per esempio questa grandissima discrepanza tanto per fare un esempio relativamente alla domanda che facevo prima tra gli esperimenti che dimostrano quanto l'apprendimento possa essere deficitario nei nei parkinsoniani e invece quelle che sono le evidenze che con tutte queste discipline vengono fornite dove invece appunto si dimostra che i pazienti possono apprendere invece in maniera assolutamente più che valida e tecnica anche non particolarmente semplici mi chiedo non è che per caso potremmo capire più o maggiori meccanismi se ne utilizzassimo alcuni principi della neuroestetica anche in ambito sperimentale assolutamente la neuroestetica è qualcosa che permette di capire meglio il funzionamento del cervello cioè il il pregiudizio di chi si oppone o chi vede di mal occhio la neuroestetica è quello che la neuroestetica voglia togliere il mistero della reazione artistica non è così la neuroestetica da una parte sfrutta questa interazione arte cervello per capire meglio il funzionamento del cervello ma dall'altra vuole dare spiegazioni che arricchiscono che arricchiscono l'esperienza artistica mi viene in mente sempre una figura letteraria di riferimento era che sì che sì che era vladimir nabokov come sapete oltre essere più grandi scrittori del novecento era un raccoglitore di farfalle e lui diceva sempre che non si può scendere il piacere estetico di vedere una farfalla dal piacere scientifico di sapere che specie di farfalla sia è qualcosa che arricchisce la conoscenza no che ne limita non si toglie il mistero della bellezza capendo che quali sono i meccanismi sottostanno alla bellezza stessa quindi è un abbiamo bisogno di un salto generazionale di un salto di approccio alla le neuroscienze da questo punto di vista vedresti con sono un webinar di questo tipo in un congresso come quello della limpe perché quando ci fanno per esempio le richieste di proposte per nuovi diciamo argomenti per il prossimo congresso io ritengo che questo sarebbe un argomento fantastico da poter trattare in una seduta addirittura magistrale tu che ne pensi sarei molto contento ovviamente assolutamente sì sì se dalla fondazione ci sentono direi che d'ufficio possono prendere questa proposta per diciamo per il prossimo convegno della limpe anche se purtroppo abbiamo saputo ieri che non si terrà dal vivo ma si terrà online non è un purtroppo è una logica conseguenza di quel che è successo quindi diciamo per l'anno dopo speriamo di poter lanciare quest'idea della neuroestetica e dare un grosso apporto io vi ringrazio roberto ed enrico chiaramente non è finito il vostro compito però abbiamo altri due ospiti che non vogliamo lasciare in secondo piano che sono due nostri amici supereroi come li definiamo noi e sono due grandi artisti vedo che c'è già presente la presentazione di valentino per cui automaticamente scusa massimiliano anche per motivi di età do prima la parola valentino che abbiamo scoperto essere un grandissimo artista perché una persona che riesce a fare una scultura con il colore è già tanto veramente tanto prego valentino buonasera a tutti e ringrazio la lente la fondazione e tutti gli ospiti allora praticamente io io ho sempre sul discorso infatti ho scritto cercare la bellezza nel parkinson un ancora di salvataggio in questi momenti difficili per tutti perché la società è fatta di malati e di persone che si sentono sani e molte volte hanno dei problemi anche loro allora è semplice come ho fatto io io mi sono ritrovato a capire tante cose e a portare anche il parkinson basta veramente poco conoscere l'arte di vivere cercando ognuno di rimanere in armonia l'armonia enrico parlava di aurea una perfezione una logica una logica armonia quando uno trova l'armonia con se stesso tanta roba e bisogna adottare la nostra la nostra intelligenza perché noi siamo gli unici che in questa terra che hanno il dono della dell'intelligenza queste sono foto foto che che io fu nei miei spostamenti e che è una natura ci riempie sempre di gioia la bellezza ma è armonica la natura perché i colori riesce ad abbinarli in una maniera fantastica qui si vede in periodo e ora qui della nostra maremma è un mare di giallo in cui tra maggio e giugno con un profumo nell'aria che ne e nebria accanto di qua c'è un bellissimo mandorlo in fiore che molti si stupiscono di queste fioriture addirittura un amico mi fece ma dov'è questo questo mandorlo io peggio perché bisogna che ognuno riesca a fare la sua scoperta gli dissi lontano a lontano era a 100 metri da casa sua lui il tre mattine montava macchina e questo mando non lo vedeva che lo feci vedere io un po e questo sembra scontato ma non è così l'armonia è qualcosa di affascinante qui si vede un paesaggio tipico della nostra toscana che tutte le volte mi incanto quando quando lo vedo che qualcosa di veramente belli bel bello con questa scelta azzurra questi cifressi che hanno 300 400 anni questa chiesina questi silenzi contemplare la natura natura c'è vicina per uno scopo chiaro quello di darci un senso alla nostra vita la nostra esistenza una guida certe volte perché sono ci penso allora questo questo mi analizzando il paesaggio è facile capire che è un paesaggio dove c'è energia quelle piante che sono lì da 300 anni è un segno che lì c'è un terreno c'è tutto acqua c'è direzione di venti giusti ecco perché perché essere grandi osservatori per apprezzare quell'armonia e quella bellezza che viene che noi abbiamo tutti i giorni vicino tutti i giorni possiamo avere emozioni e sono emozioni che poi si fanno aspettare con gioia l'emozione dopo ecco mentre pronunciava la parola la parola armonia riusciamo a entrare nel suo quando si fa si proviamo a dire l'armonia riusciamo a entrare al suo interno e percepirne l'unica forza che muove tutto ed è la parola amore perché armonia e amore sono legati e quest'amore illumina la bellezza rendendo la millenaria quindi eterna perché qui c'è un reperto in marmo che è datato a 700 800 avanti anni cristo anni avanti cristo di una bellezza sembra 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 bevivo sembra che cammini è una cosa di una bellezza disarmante io una cosa così chi l'ha realizzata questa è l'eterna questa bellezza accanto c'è questo 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 dipinto che l'ho chiamato passione è un cuore un cuore che se uno lo vede bene c'è tra i petali di un fiore è una cosa nata per gioco però anche questa una cosa rara perché da un punto di rosso fa riuscire un cuore una cosa bellissima tra l'altro questo lo realizzai 14 febbraio 2018 san valentino io ho un continuo contatto con la natura e lo servo continuamente perché la natura è gioia e stagioni e profumi colori 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 bellissimi e qui questo è un punto un punto verde della nostra città qui c'è osia pistica le buche e c'era quest'anno e questo è il 2016 con questo sussino stracarico di sussini stracario nessuno lo osservava io poi posandoci gli occhi mi meravigliò come mi meraviglia ancora e fece questa foto di di là nella nella foto e di si dice scritta amore e se uno va proprio sicuro certo è che lo va a vedere amore la m lo aspetta no qui addirittura c'è una produzione in mezzo c'è quasi il simbolo della pace si vede la è la r tra poverini o l'alta furia se eccola riguarda ecco la è e la lei amore allora la natura si dice anche ma dove vai vai più piano rallenta e questo è il bosco il bosco è un bosco magico questo è un bosco che io ho fatto queste foto al sanitario della perna ma uno lo può trovare vicino a casa questo quel giorno mi disse vieni a vedere chi vedo io in bosco io seguì questo 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 voce che avevo dentro per la voce della curiosità alla voce di scoprire la voce di non si contentare una voce che segue le emozioni perché io devo tornare a casa carico di emozioni e qui c'è la famiglia per la famigliola che c'è c'è un varano c'è questo 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 non mi ricordo come si chiama questo 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 albero sono famosi c'è il bosco che lui mi dice di attaccata la serra per la serra di scoprire le radici e lui ancora più profonde allora lui può vivere voglio vivere anch'io sono esempi sono che mi fa però sono veri e poi ecco qui c'è questa cosa è meravigliosa allora vedete questo questa figura vi avete sì allora io in mo in vetro perché io osservo tutto devo guardare devo sapere sono curioso per natura questo io ho un tronco ma se uno lo osserva bene vede a un corpo umano lo vedete le navi e le cosce costato lo vedete e io quando vi vi di questo mi venne subito spontaneo queste queste parole un bosco dove l'amore humus eterno oggi il bosco cresciuto di quell'amore grida facendoci vedere chiaramente come l'umanità si è ridotta dobbiamo rallentare osservare condividere silenzi parlandosi in pace tra uomini così da seminare bosco all'infinito un messaggio che è per tutti e poi questo è un altro punto fondamentale in quanto noi siamo dei privilegiati hanno amo chiamare la terra la nostra prima madre perché lei accoglie 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 anche noi nel suo grande ventre anche noi dopo il nostro primo pianto per vivere in armonia perché perché da quel momento iniziano a far parte di un tutto il movimento c'è armonia e che natura ritorna a dire e armonia è un movimento armonio e noi questo questa armonia l'abbiamo nella nostra memoria storia qui accanto c'è un libro un libro che non che bruciato dall'uomo da un incendio però subito dopo di butti la vita quando io capì questo ci fece un evento la vita vince sempre e questo anche questo da una forza estrema proprio un olivo che vuol sempre che una pianta e dice io mi rigenero però voglio vivere e proprio dopo aver ricevuto proprio nel 2009 da dottor grassi la sentenza io la chiamo la sentenza sono riuscito con determinazione a riprendere a prendere uscienza nel mio modo di essere creativo nella quotidianità della giornata perché voglio dire creativi siamo tutti non fare una vita veloce scorrere senza che rimangano da addosso perché questo l'unicità di vivere della luce la propria luce una luce positiva un sorriso un dare un buongiorno non condividere quello c'è da condividere e premiare le relazioni tra persone io ho sempre ho premiato questo nel mio percorso ma non di perché siano di persona di uomo sempre sempre qui sono con la mia maglietta in cammino con arte un progetto che sto portando avanti proprio per contaminare che per avere per avere relazioni per essere tanti in movimento in arte perfetto e qui c'è qui c'è dimmi no 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 prego prego pensavo avessi finito valentino ah no qui no e qui qui c'è un tema importante perché qui l'amore qualcuno ha detto è la forma più alta della conoscenza quando uno raggiunge la consapevolezza di vivere di questa luce ha una sensibilità una percezione dello spazio da sentirsi sospeso è quello che a volte mi succede talmente leggero da carezzare le prezze del volo e potrà per questo suo modo di essere in pace in grado di vivere i sogni e le visioni talmente reali da sentirne le forme vederne i colori emozionarsi nel percepire gli immaginari suoni e profumi arrivando a meravigliare amici questo è un difinto che allora io come al mio solito a Enrico mi mando spesso e lui mi dai il titolo ma così peggio però quella volta lo chiamò Fiat Lux pensavo di fregarmi perché questo è del latino e sia luce questo è un difinto è una forza bellissimo bellissimo e questo è un altro tema questo è il mio modo di vivere io e ci ho fatto anche una poesia uno scritto che è qui leggibile addirittura devono capire tutto l'ho fatto anche l'inglese rigirandola c'è la parte dell'inglese qui c'è tempo per leggere e qui arrivo a descrivere la fase della mia creatività io vivo di emozioni le raccolgo le scrivo le condibito le fa tesoro e quando queste emozioni si sommano diventano incontenibili in maniera naturale prende corpo una visione dove vedo già le forme i colori i materiali che userò arrivando subito dopo a vederla finita ho una facilità ma questo anche prima per il lavoro che facevo io ero creativo nel tessere di Prato certamente Enrico lo studioso mi dice che c'è delle zone di cervello che si attivano in una maniera e questo senz'altro avviene però io mi sento fortunato Valentino va conservato perché come se posso dare un senso a tutte le cose belle ha detto Valentino vedete è l'incarnazione dei concetti ho esposto prima io allora è un uomo capace di vivere con un grande spessore emotivo tutte le manifestazioni della vita quindi è profondamente direbbe Wilson biofilico cioè ama profondamente le manifestazioni estetiche della natura ha una urgenza di fare arte che è tipica del paziente parkinsoniano artista lui non l'ha detto ma Valentino disegna mobili disegna luci cioè ha un bisogno di manifestare la propria creatività clamorosa e un dato assolutamente importante è la ricchezza della sua ideazione visiva quelle cose che ha fatto vedere prima i tronchi d'albero si chiamano paraidolie è il bisogno del cervello di dare un significato a qualcosa che in realtà non ce l'ha e le pareidolie lo sapete la malattia in cui la pareidolia la fa da padrona è la demenza a corpi di levi e ci sono studi in cui i dementi a corpi di levi più che allucinazioni sono invasi dalle pareidolie nel parkinson purtroppo ci sono pochissimi studi allora il parkinsoniano ha un sistema cognitivo per per larghi parte della vita praticamente quasi fino alla fine conservato e in più ha il dono di una creatività visiva incredibile e quindi questa capacità di vedere cose che noi non vediamo è un plus non è un minus e quindi è qualcosa che rende il paziente parkinsoniano più ricco di noi ed è non è minimamente sfruttato non è minimamente sottolineato dalla scienza e non è minimamente studiato il sistema visivo del parkinsoniano intendo quello oltre all'impuverimento retinio sappiamo bene ma la via la via del watt la via del wear la corteccia visiva è molto poco studiata ed è invece qualcosa che arricchisce il parkinsoniano questa capacità di vedere cose che gli altri non vedono e Valentino che ha la fortuna di essere un artista e di essere soprattutto un uomo ricco da un punto di vista emotivo e senza aver paura di dirlo sentimentale sfrutta appieno questa capacità ed è qualcosa che noi abbiamo studiato molto poco chi si occupa di parkinson cioè il sistema visivo le cortecce visive dei parkinsoniani Valentino lo dimostrano la sua opera complimenti veramente aspetta finisco via allora Valentino dobbiamo fare le maschie in piano lavorando concentrato un minutino se no Alex Massimiliano non ha tempo aspetta un minuto veniva non sicuro questo è allora sono sicuro nessuno di voi ha in questo lasso di tempo leggetelo vai veloce tanto queste slide rimangono vai fai parlare però vi voglio fidare un po' in giro aspettate gli artisti chi sono gli artisti gli artisti possono avere il parkinson è normale quanto durerà questa pandemia di parkinson eccetera eccetera questo sono io e questo è dei grassi dedico questo lavoro al dottor Enrico Grassi e a chi come noi va incontro all'impossibile rendendolo possibile condividendo tutto proprio come ha fatto come fatto oggi insieme nessuno deve sentirsi solo quando andrà incontro all'impossibile promesso questa è la porta sua aperta va bene Vale ciao grazie Vale ciao allora io scusate che purtroppo contenere i figli come sapete è sempre un po' difficile e scusa che Valentino non ho potuto seguire le ultime due cose ho visto parzialmente però veramente grazie del tuo apporto dico solo che avremmo bisogno di farti un sacco di domande e avremmo veramente potremmo fare tesoro delle tue esperienze per crescere tutti quanti purtroppo il tempo è tiranno e direi che sicuramente questo primo webinar sulla bellezza nel parkinson a mio avviso apre la porta a un secondo webinar sulla bellezza nel parkinson che potrebbe partire da queste considerazioni io lancio l'idea vediamo se in fondazione raccolgono l'idea però appunto non ci dimentichiamo di Massimiliano anche lui usa il bello che viene non solo dalla danza ma da ciò che vede come fa Valentino solo che Massimiliano invece che apprezzare il bello della natura intesa proprio come tale apprezza il bello di un'altra natura che quella umana perché lui da quello che io ho capito della sua storia diciamo trae grande piacere dalla frequentazione dell'India e lascio a te la parola Massimiliano Buonasera a tutti grazie per questo invito e ascoltare tutte le persone che sono da il dottor Enrico Grassi Roberto l'amico Roberto Casarotto Valentino che veramente sono rimasto in religioso silenzio perché è bellissimo ascoltare parlare di bellezza e la bellezza ci siamo accorti che nel Parkinson la memoria fortunatamente è un qualcosa come diceva prima il dottor Enrico Grassi non perdiamo quindi riuscire a imprimere in noi i momenti di bellezza il nostro corpo se le minuti ricorda e si ricorda ogni singolo muscolo si impregna di questi momenti di bellezza che viviamo sul nostro corpo quindi da qui il discorso di fare danza e naturalmente alle volte la bellezza la andiamo a cercare anche altrove perché nei nostri viaggi il fatto anche di oltre essere creativi la persona che diciamo come me che appunto ha questa voglia di continuare a conoscere apprendere perché come il fatto di stare in mezzo ad altre culture altre persone è una continua ricchezza un continuo apprendimento e da questo portiamo a casa ogni volta informazioni fantastiche le viaggi in India ho portato la medicina ayurvedica che mi sta aiutando moltissimo nel fare di proprio di capire qual è la scienza della vita perché la parola ayurveda significa scienza della vita e sono le cose che poi alla fine si tornano a scoprire che sono ricette che sono state già erano esistenti 5.000 anni fa quindi come tutte le volte le cose che sono scritte nel tempo sono quelle che poi hanno più effetto perché non perdono mai il loro valore nella ayurveda il fatto di riuscire a trovare quell'equilibrio che molte volte perdiamo soprattutto quando siamo poi presi colpiti da tanti momenti di pensieri che vanno a farci volare la nostra testa infatti nella ayurveda il vata l'aria il dosha che è più in desequilibrio perdonate ma questo è la fase off della mia giornata che è d'attesa infatti attendere intanto diciamo in posizione ferme avrei bisogno di danzare quindi la cosa appunto che dall'India magicamente scompare è il mio temore e la mia rigidità lì casualmente non tanto casualmente proprio volutamente secondo me perché appunto la nutrizione e l'aspetto poi lo sta raccontando con la natura come diceva Valentino osservare la natura respirare respirare perché è importantissimo il respiro è fondamentale e poi essere ascoltati lì fisicamente c'è un incontro con i nostri dottori ayurvedici quotidiano ogni giorno c'è più di mezz'ora un'ora il tempo che poi non c'è tempo non c'è limite non ci sono tempi è scaduto il tempo il tempo è infinito per parlare con i nostri dottori e per parlare delle nostre storie perché è importante raccontare le nostre storie finalmente stanno iniziando a raccontare e da queste storie si inizia a comprendere cos'è una malattia di Parkinson dall'altra parte e in questo per dire ci aiuta tantissimo la danza queste forme d'arte sono per noi fondamentali perché riusciamo a sviluppare la creatività che fortunatamente è lì intatta è rimasta intatta e cerchiamo solo di svilupparla quindi dobbiamo cercare di incentivare questi momenti d'arte incentivarli facendo quello che può essere la musica la musica infatti anche Torino sta portando avanti un progetto col Politecnico di Torino con Foundation Link Foundation con gli amici perché appunto la musica va ricercata e va stimolata quindi va a premiarci quindi c'è un progetto che si chiama Music Coach sarà quindi il nostro cammino grazie alla musica poi l'ha fatta con altri col gruppo quindi è una cosa importantissima è il gruppo e perché no anche usare la nostra voce quindi usare la nostra voce come simbolo diciamo di suono quindi essere fieri della nostra voce perché tirar fuori la nostra voce significa avere autostima e la nostra autostima ci porta a fare delle cose che non mai pensiamo di poter fare come poter quello di danzare in pubblico abbiamo danzato salto un po' di pali in frasca però abbiamo fatto un'esperienza con Densuel in primis vabbè o per estate che organizza ogni ad agosto in momenti di formazione per gli insegnanti Densuel ma non solo perché è un palinsesto che dura tutto il mese che riguarda il mondo della danza del teatro del cinema e in questo contesto ho avuto la fortuna di parteciparvi ed è proprio vivere e respirare danza e arte per un mese o il tempo che uno ha a disposizione è proprio il nutrimento per il nostro corpo per il nostro cervello per il nostro cuore e questi momenti qui ho fatto sì che appunto anche nella formazione di insegnanti ci fossimo noi io e Eva e altre persone del gruppo che si sono iniziati a formare che ho iniziato a fare una specie di apripista a formare a far sì che anche le persone che diventino poi insegnanti abbiano un feedback da parte nostra perché è importante ascoltare sempre le persone appunto non fare sempre una cosa in un'unica direzione ma avere una comunicazione bidirezionale e in questo è molto questo fa sì che poi alla fine si creano dei gruppi e questi gruppi poi alla fine una volta che si conoscono dei gruppi di persone questi gruppi non si sciolgono più come a Torino l'esperienza che abbiamo nostra abbiamo creato un gruppo eterogeneo di persone non ci sono più persone per dire che hanno una patologia ma ci sono persone che hanno diverse diciamo estrazioni e alla fine ci raccontiamo le nostre sensazioni facciamo un bollettino di racconto di quello che sono i nostri momenti vissuti insieme e li condividiamo non da ultimo in questi giorni ho conoscito un altro gruppo di persone con i problemi di ipovisione e a trovare altre persone che per dire perdono la sensibilità di altri sensi ma ne acquistano degli altri le potenziano quindi come noi abbiamo perso per dire la difficoltà di movimento e i 600 in noi stimolando quelle che sono le altre capacità che abbiamo che stiamo capendo che stiamo ancora allo stato diciamo ancora intatto dobbiamo stimolarle quelle per cercare di sopperire alle mancanze di altre perdite che abbiamo avuto e quindi camminare adesso mi ricollego al momento del cammino il cammino insieme è fondamentale organizziamo spesso delle camminate che fanno delle cost to cost la prima abbiamo fatto diciamo la prima camminata la nostra camminata di amici insieme è stata fatta di la Vigevona Pavia 42 km in due giorni e altre camminate solo perché appunto in cammino la gente si racconta è più libera si riesce più a raccontare esprimere essere creativi e da qui appunto il discorso del gruppo il gruppo fa una differenza il gruppo è quella che ci può essere l'aiuto infatti adesso il gruppo si è creato anche un gruppo internazionale di recente e anche con questa questa creatività abbiamo scoperto che tante persone hanno tanta voglia di cantare tanta voglia di esprimere tanta voglia di raccontare la propria storia ed è quello che sta venendo fuori in questi giorni prendo un po' di fiato non ti sento? Nicola non ti sentiamo ecco non avevo attaccato il microfono scusate stavo appunto dicendo che ringraziamo Massimiliano per le sue belle parole e la sua bellissima esperienza ci sarebbero tantissime cose da aggiungere ripeto Donatella abbiamo capito aspettavamo la tua comparsa abbiamo capito oggi che questo è probabilmente sarebbe solo il primo di una lunga serie perché come hai visto si sono aperte tante lampadine e tante porte per cui lanciamo tutti quanti insieme alla fondazione e a chi diciamo al comitato che seleziona gli argomenti di webinar la possibilità di un numero due che io proporrei con gli stessi operatori se potete cambiare il modellatore va benissimo perché non sono io importante ma sono loro quelli importanti e chiaramente un'aggiunta di qualcun altro perché l'argomento è veramente bello e io vorrei concludere con una domanda indirizzata ad Enrico ma chiedo scusa agli altri perché vorrei sentirvi veramente all'infinito e una considerazione che viene dalle domande dove stasera abbiamo risposto un po' pochino ma come potete capire gli argomenti erano tantissime ed era la prima volta che venivano trattati quello che vorrei chiedere a Enrico in maniera un po' provocatoria è la seguente cosa noi stiamo cercando in tanti scritti vediamo che c'è sempre c'è sempre detto che non abbiamo ancora i farmaci per la neuroprotezione ma soprattutto per promuovere la plasticità neuronale tu ritieni che il futuro per esempio della ricerca nell'ambito dello stimolo della plasticità neuronale venga per lo più dai farmaci o forse dallo sviluppare questi aspetti legati alla vita e legati a tanti altri aspetti come l'arte e il bello perché per esempio quel lavoro di osservazione della natura che fa Valentino a mio avviso è un forte motore per la plasticità neuronale tu che ne dici? visto che al momento non abbiamo farmaci ma abbiamo l'arte e l'amore per la vita direi che assolutamente sfruttiamo queste cose che abbiamo come mi sembra che sia risultato chiaro il sistema dopaminergico svolge un ruolo fondamentale non solo nel circuito del reward ma anche della ricompensa del piacere ma anche nell'approcciare la vita con occhi diversi che passa attraverso appunto quella che tu definisci plasticità neuronale per cui una forma di direi di gradimento alla vita come è l'arte perché fondamentalmente è un sistema di ricompensa per gli altri che la osservano e per l'artista che la fa perché sennò gli artisti non la farebbero non lavorerebbero per gli altri lavorano per se stessi in prima battuta e poi lavorano anche per gli altri questo è un meccanismo che nei nostri malati parkinsoniani può essere veramente un supporto fondamentale anche da un punto di vista terapeutico perché come abbiamo visto i pazienti siamo sempre abituati a vedere quello che manca e mai a quello che c'è o che c'è in più questo è un difetto del neurologo in generale vediamo sempre quello che manca non quello che c'è talvolta i nostri pazienti non solo hanno qualcosa che abbiamo anche noi ma hanno qualcosa in più di quello che abbiamo noi e questo non lo vediamo perché siamo cehi la cecità alla bellezza è una delle grandi malattie del mondo moderno dobbiamo assolutamente aprire gli occhi alla bellezza e talvolta i pazienti parkinsoniani ci insegnano come fare l'esempio dell'amore per la natura della biofilia che sia Valentino sia Massimiliano hanno chiaramente espresso con parole semplici e dirette loro guardano il mondo con occhi diversi dai nostri mi permetto di dire molto spesso migliori grazie Enrico veramente sagge parole e bellissime Donatella lo so che stiamo sfodando mi servono 30 secondi perché vorrei dare chiudere un piccolo cerchio delle domande che ci hanno mandato perché una domanda è stata di una persona che ha chiesto ma qual è veramente la ricaduta pratica di tutte queste diciamo del bello dell'arte di quelle che vengono definite discipline complementari e c'è la signora che a mio avviso si può nominare perché è famosissima Eva Barotto che Roberto credo conosca molto bene che dice vorrei confermare che la memoria muscolare positiva data dalla ripetizione dei movimenti della danza una volta attivata e rimane tale e torna ad essere involontaria come prima della malattia ogni senso attivato da qualcosa di bello se ripetuto nel tempo porta ad un generale miglioramento dei sintomi e o la possibilità di fruire usare questi movimenti come strategie per arrangiarsi nel vivere quotidiano come disabili ma come persone artisti danzatori dotati di un qualcosa in più non un difetto come diceva Enrico ma un'eccellenza dataci gratuitamente Eva da Vicenza Dancewell Dancer direi che queste parole a mio avviso riassumono un po' quello che abbiamo provato a descrivervi oggi io ringrazio veramente di cuore ma veramente di cuore Enrico perché sei stato meraviglioso come dice sempre Maria Chiara Sensi sei super lativo e confermo Roberto Casarotto veramente grazie Massimiliano e Valentino siete due forze della natura continuate così perché il vostro percorso secondo me sarà chiaramente un percorso con delle difficoltà però pieno di bellezza che voi assolutamente diciamo date e trasmettete grazie Donatella buonasera a tutti grazie grazie a tutti voi grazie grazie a tutti